Allora siamo di nuovo qua insieme, rispondiamo anche agli ultimi messaggi se vogliamo metterli in onda, io volevo un po' parlare anche del discorso dell'acqua che è fondamentale, è un problema perché soprattutto la tutela delle acque è fondamentale per l'agricoltura, leggo questo messaggio, dopo anni di chimica, d'oltranza gli agricoltori si sono redenti, bravi, cosa vogliamo rispondere? Qui possiamo solo rispondere a una cosa, che la chimica è stata utilizzata nel periodo del boom economico senza tutelare quello che potevano essere i posti e le conseguenze successive, perché penso alle attrazzine di 30-40 anni fa che a distanza di 20 anni si sono dimostrate calcerogene e quant'altro, oggi la nuova visione del mondo che cambia è anche quella che deve prendere a baraccetto comunque la ricerca, la ricerca all'università, la sperimentazione e capire che si può fare ancora agricoltura anche al ritorno a un passato remoto, dico questo perché? Perché la chimica praticamente è sempre stata gestita da multinazionali, non è stata gestita dall'inventore della particella singola, quindi l'agricoltura ha sostenuto un mercato trasversale in cui queste multinazionali talvolta neanche le tasse hanno pagato nello stato in cui veniva utilizzata quella chimica e allora è giusto dire anche alcuni tipi di scelte stop, sicuramente fare il bio, fare il non utilizzo della chimica ci sono delle circostanze difficilissime da risolvere, però se mettiamo a braccetto la volontà e la ricerca, la sperimentazione, oggi siamo all'altezza, se pensiamo anche all'antivir, cioè alla pandemia, il virus che abbiamo vissuto, in otto mesi, nove sono riusciti a trovare l'escamottage per fare il vaccino, per quanto ne so io, di solito i vaccini sono stati studiati e ci sono voluti sempre dai 3-4-5 anni per mettere a puntino un vaccino, quindi i tempi e la voglia di raggiungere un obiettivo, se ce lo poniamo sicuramente lo possiamo raggiungere. A cosa mi riferisco? Che la ricerca tipo la cisgenetica e non sto parlando di OGM, perché nell'OGM i primi OGM che venivano messi in commercio venivano utilizzate genetica animale su vegetale, però io dico che con l'incrocio fra legge di Mendel, magari con la micropropagazione per accelerare i tempi e raggiungere gli obiettivi concreti in tempi più brevi, si può fare e se si vuole si può raggiungere l'obiettivo per un futuro che dovrà e deve assolutamente cambiare. Ecco, relativamente proprio alla domanda, bisogna dire che in Italia migliorano tutti gli indici sull'impatto ambientale, adesso leggo anche il messaggio, meno 25% emissione di CO2, meno 27% di pesticidi, meno 31% di erbicidi, meno 28% di fungicidi e crescono sia la produzione di energia green più 690% che le superfici biologiche più 56%, messaggio per costruire un futuro migliore per i nostri figli bisogna partire soprattutto dall'agricoltura e dall'industria, bisogna tutelare l'ambiente, bisognerebbe sì che lo facessero un po' tutti anche i decisori, perché dopo è inutile dire che non bisogna costruire, però si fa costruire, Sonderoga e il nostro paese è così. Terreno per l'agricoltura, quindi c'è mancanza di questi terreni? Ma se continuiamo a legiferare nel 2017 per il non consumo del suolo e poi andiamo nel delta del Po all'Oreo e vogliamo fare 60 etri di fotovoltaico a terra, io mi desbatteso, cioè, scusatemi ma vuol dire che parliamo bene e razzoliamo male, dobbiamo essere coerenti, oggi per fare agricoltura serve il terreno e serve un rispetto, piuttosto proponiamo delle forme di proposta alternative, che ne so, molti terreni sono in mano ad anziani che sono affezionati al loro pezzo di terra, magari la danno in affitto a un giovane imprenditore che vuole fare agricoltura e lo decurtiamo da quello che può essere il costo dell'Imu, ma queste possono essere cose concrete, abbiamo capannoni a go-go ancora coperti con fibro amianto e andiamo a fare il fotovoltaico a terra, incentiviamo quel tipo di sostituzione, diamo lavoro a imprese, diamo l'opportunità di fare energia pulita e allo stesso modo di allevare animali all'interno di strutture sane. Chiarissimo, l'altra cosa importante è il discorso della sostenibilità economica in agricoltura, cioè la redditività essendo molto marginale, molto bassa, non consente di dedicarsi come ci si vorrebbe in agricoltura, infatti gli imprenditori sono sempre più esposti non solo a rischi in agricoltura, che non hanno coperture assicurative, ma a periodo di maltempo si cita con pochissimi ombrelli assicurativi. Anche questo è un altro tema, però stiamo vedendo che c'è la volontà di raggiungere una forma di assicurativa, di tutela dell'imprenditore agricolo un po' più modernizzata rispetto a una volta. Quindi qualche piccolo passo avanti sta facendo. Sì, abbiamo anche degli strumenti importanti, pensiamo ai consorzi di difesa antigrandine e non solo antigrandine che magari ti danno la possibilità di assicurarti anche contro la notula o contro calamità particolari. Poi abbiamo centraline dislocate, oggi il meteo lo possiamo conoscere, oggi per domani e quindi c'è anche la possibilità di tutelarci in maniera uniforme nel territorio. Sicuramente le forme assicurative sono indispensabili, la tutela di chi investe, noi in agricoltura siamo al cielo aperto e quindi il rischio è sempre maggiore. Però dobbiamo pensare che alla fine della torta fatta 100, all'agricoltore gli rimane il 17%, massimo 20% quando gli va bene. E sì che i prodotti agricoli comprati nella GDO, ma anche nell'ortofrutta sotto casa, sono venduti a prezzi altissimi, cioè per mettersi frutta e verdura per certe famiglie è un lusso. Certo, e talvolta non è neanche prodotto italiano, dobbiamo capire, quindi la stagionalità, la provenienza, la qualità, il sacrificio che fa un agricoltore, io dico la torta 100, dividiamola in tre parti uguali, in un senso di uguaglianza e di sopravvivenza generale e sicuramente qualcosa avremo già cambiato e questo potrebbe già essere il paese che vogliamo, il paese che vogliamo in un'uguaglianza che serve ed è oggi indispensabile. So quanta fatica si fa sui campi e quanta fatica per il biologico, cerchiamo di prendere esempio dei paesi avanzati che di certo non sono l'America. Sono d'accordissimo perché poi alla fine i nostri prodotti di qualità, penso agli impiantini di biogas che per andare avanti devono utilizzare il nostro mais che è un prodotto di qualità, non è OGM e poi ai nostri animali magari siamo costretti, la nave che arriva dall'America certificata OGM, darla da mangiare ai nostri animali, cioè ci sono dei paradossi che non li posso accettare, dico facciamo chiarezza, definiamo determinate cose, quel mais magari facciamo il biogas ma i prodotti di qualità riconosciamoli un prezzo e diamoli. A proposito di prezzo, se pensiamo che anche l'annata 2020 l'agricoltore ha venduto oggi i proteici per allevare in zootecnia, hanno dei costi stratosferici perché la soia è a oltre 50 euro, per non dire 55, il mais a 22, la medica ugualmente a 19-20 euro, oggi fare l'allevatore è costosissimo, quindi le materie prime hanno aumentato di prezzo e il prodotto finito da vendere magari ha anche calato perché con la scusa di orecca del consumo e della richiesta il prezzo va giù perché il mercato è sempre fatto da chi offre e da chi acquista, domanda ed offerta. Allora a fronte di ciò dobbiamo prendere coscienza e posizione di capire quali possono essere le soglie minime di una determinata produzione. Questa è un'altra cosa molto importante, un altro messaggio, tuteliamo il consumo dell'acqua in particolar modo facciamola arrivare in tutte le case anche in Africa, pensate che una persona su tre nel mondo non ha l'acqua potabile sicura, questo è un altro aspetto, e noi abbiamo purtroppo degli acquedotti, soprattutto in certe zone che fanno acqua, come dire, perdono tanta acqua. Siamo in un'area di un territorio in cui abbiamo sempre vissuto dignitosamente con l'acqua perché siamo in un'area di sorgiva, però l'acqua la dobbiamo usare con parsimonia, con strutture innovative, non la dobbiamo sprecare, però sicuramente dobbiamo anche ripinguare quelle falde e quindi creare, perché l'acqua non è solo quella che vediamo sopra. No, è l'acqua di falda che non venga inquinata assolutamente, va tutelata anche da questo punto di vista. Prontissimo per prevenire, perché sicuramente oggi la legge importante è quella che prevenire costa meno che curare. Questa parola è sacrosante, chiudiamo il nostro capitolo grazie al Presidente Betto della CIA di Padova, sono stati argomenti molto molto interessanti, la nostra trasmissione come sempre la potete rivedere sul nostro sito internet rinnovato e quindi con questo noi rinnoviamo il nostro appuntamento naturalmente a domani e grazie ancora di averci seguito e il Presidente adesso è stato qui con noi, grazie. Grazie.